È morto un grande, leggendario cosmonauta sovietico, il primo cosmonauta, di origine ucraina, Pavel Romanovich Popovic. Ha fatto parte del primo team, Gagarin, un gruppo di coraggiosi esploratori. Pavel Popovic, è deceduto cinque giorni prima del suo tantesimo compleanno. Era un cosmonauta, numero quattro, nella storia dell'esplorazione spaziale ed era, inoltre, una personalità, importante nella storia dell'ufologia, sovietica. Ha dato un grande contributo, alla promozione della ricerca UFO, quando, nei giorni bui della censura e di un'ideologia soffocante, gli UFO erano un argomento proibito, per ricerche non autorizzate, ovviamente, il complesso militare industriale, sovietico e l'Accademia, li studiavano in segreto, nell'ambito dei progetti SETCA. Popovic era gentile, coraggioso e generoso. Lui stesso fu testimone, di un avvistamento UFO, durante il suo volo sull'oceano atlantico.